ben trovati ragazzi ben trovati a tutti i radio appassionati allora qui abbiamo ben due radio dmr come vedete il tit md 2017 e l'anitone che tutti conosciamo il re del dmr molto bello guardate che bel display colorato che abbiamo sono multifunzioni veramente un qualcosa di eccezionale sono veramente dei gioielli dei gioielli il dmr ha completamente soppiantato sostituito il sistema analogico per quanto riguarda i ponti radio però secondo me secondo me non è proprio così non è proprio così è uno sfizio il dmr secondo me è una roba sfiziosa è un sistema che assomiglia molto alla telefonia per cui un sistema molto chiuso secondo me molto chiuso molto elitario no perché sono anche insomma delle radio trasmittenti molto costose bisogna stagli dietro inserire i canali slot codice colore eccetera eccetera ma secondo me non è proprio così non è proprio così il dmr si ha avuto il suo sfarzo il suo clou diciamo però da quando sono entrate in commercio queste radio qui le quansheng le andytron comunque le uv k5 barra 8 c'è un ritorno all'analogico un ritorno all'analogico perché abbiamo praticamente la possibilità di inserire firmware sempre nuovi è un sistema open source guardate veramente bello economicissimo che con dai 18 ai 35 40 euro lo possiamo comprare in qualsiasi momento non è molto dispendioso di soldi come può essere un anytone che costa sui 180 euro e il tit md 2017 che costa quasi uguale guardate sono delle radio professionali i dmr non c'è niente da fare posso trasmettere dei brevi messaggi di testo dati posso trasmettere la mia posizione perché ha anche il gps tutto quello che volete è bello sfizioso carino ultramoderno però poi alla fine è molto chiuso molto elitario molto insomma di nicchia ecco invece con questo bellissimo andytron uv k5 barra 8 abbiamo la possibilità di sbizzarrirci con i firmware possiamo e poi comunque ci sono un sacco di sviluppatori che a cadenza regolare tirano fuori i firmware sempre nuovi con varie funzioni addirittura adesso c'è l'ultimo firmware che so che fa tutte le hf in completo la scansione completa delle hf almeno in ricezione per cui fa da 0 a 30 in am e bande laterali bellissimo ragazzi non c'è niente da fare veramente bello e poi comunque devo dire una nota dolente per i dmr lasciatemelo dire è proprio la qualità dell'audio molto stridula molto metallica a me non piace a me non piace molto per quanto riguarda il consumo della batteria sì è vero la batteria consuma molto di meno il dmr perché il dato digitale non è in una frequenza modulata per cui è campionata per cui è vero sì la batteria dura molto di più però vogliamo mettere la batteria di un quansheng un enditron che con 11 12 euro ce la compriamo ce ne compriamo 3 4 siamo a posto benissimo io non è che voglio pubblicizzare queste radio qua per carità ma è un dato di fatto un dato di fatto perché siamo davanti qui a dei prodotti che veramente sono avveniristici però poi alla fine non li usa più nessuno non li usa più nessuno ragazzi purtroppo è la verità è questa qua la verità bene io con questo video breve video volevo solamente salutarvi perché ci sono sempre cadenza diciamo settimanale butto fuori un video così giusto per sentirci per i radio appassionati perché so che un sacco di radio appassionati come me seguono questo canale è giusto per vedere le radio ecco vogliono la curiosità di vedere le radio come ce l'ho anch'io come ce l'ho io la curiosità di vedere nuove radio e sentire i vari pareri di quale di là vede pmr possiamo anche etichettare qui possiamo etichettare anche il pmr bellissimo dai non c'è niente da fare comunque dai io vi saluto con queste radio bellissime radio trasmittenti dmr ma io preferisco sempre questa qua questa è la mia preferita uv k 5 barra 8 con il firmware sempre in continuo fermento va bene ciao al prossimo video vi saluto alvaro minale radio anche io iscrivetevi al canale se non l'avete fatto tanto è gratis e vi proporrò un sacco di tantissime altre radio quelle che voi volete ciao ciao